I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Licata hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel 2004 dal Tribunale di Firenze Marco Battaglieri, cinquantenne. L'uomo deve scontare la pena definitiva di oltre dieci anni di reclusione poiché è ritenuto responsabile di rapina, usura, truffa, furto, falso materiale e altri reati minori. In particolare a seguito di serrate e meticolose indagini il personale è riuscito ad accertare la reale identità di Marco Battaglieri, il quale con estrema abilità aveva ottenuto dei documenti originali assumendo la falsa identità di un cittadino straniero di nazionalità ungherese, tale Janos Kopp, riuscendo così a sottrarsi per oltre vent'anni alle indagini condotte dalle forze di polizia per la sua cattura. Audace è la tattica adottata dall'uomo che dopo essersi accorto di essere stato messo alle strette dalle investigazioni dei carabinieri, recandosi alla procura della Repubblica di Agrigento e presso il commissariato della Polizia di Stato a Licata ha inscenato e denunciato asserite irregolarità commesse dai carabinieri di Licata che avevano nel frattempo provveduto a ritirargli documenti falsi per l'esecuzione di più approfonditi accertamenti. A seguito delle perquisizioni eseguite presso la dimora del latitante della quale si serviva omettendo di versare le previste quote di affitto, avendo come di sua abitudine raggirato il proprietario, i carabinieri hanno scovato vari documenti falsi che l'uomo era solito utilizzare per mettere a segno svariate truffe ai danni di privati, imprese e strutture ricettive. Fra le altre cose sono state infatti recuperate poste sotto sequestro numerose sim card telefoniche e alcuni telefoni cellulari ritenuti dagli investigatori frutto di diverse truffe commesse ai danni di alcune compagnie telefoniche in merito alle quali la stazione dei carabinieri di Licata aveva già in corso diverse indagini scaturite da numerose denunce ricevute nel tempo. Durante la perquisizione nella dimora dell'uomo è stata inoltre trovata una copia del compendio di 100 cognomi più diffusi in Italia di cui lo stesso e ad avviso degli investigatori all'arma si sarebbe servito per creare identità false. Sequestrata anche l'autovettura in uso all'interessato risultata di pertinenza della filiare francese di una nota società di noleggio dallo stesso presa in locazione nel 2011 utilizzando come di propria consuetudine i documenti falsi. I carabinieri dopo essere risaliti alle esatte generalità dell'uomo hanno anche dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso nei confronti del latitante dalle autorità dell'Ungheria all'inizio del 2012 in quanto condannato alla pena definitiva di 5 anni di reclusione per oltre 40 truffe. Battaglieri dopo le formalità di rito è stato associato quindi alla casa circondariale di Agrigento a disposizione delle competenti autorità giudiziarie.